Allora, amici di News Messina, siamo in collegamento con il dottor Giuseppe Visardi, laureato in Fisica dell'Atmosfera all'Università di Bologna ed esperto meteorologo per il Comune di Milazzo. Benvenuto. Grazie. Sparlaci un po', com'è nata questa tua passione per la meteorologia? Beh, questa passione per questa scienza diciamo che è nata in un modo che potrei dire innato, credo sia innata questa passione perché sostanzialmente da quando ero piccolo che mi sono avvicinato a questo bellissimo mondo, a questa bellissima scienza che poi nel corso degli anni ho costantemente migliorato la mia preparazione prima dal punto di vista diciamo empirico, quindi con l'osservazione, poi anche dal punto di vista più formale con lo studio, quindi con l'università, mi sono iscritto a Fisica, ho conseguito la laurea triennale, poi mi sono iscritto appunto a Bologna in Fisica dell'Atmosfera dove ho conseguito la laurea magistrale e per fortuna appunto sono riuscito a concludere questo mio percorso realizzando così un sogno che avevo fin da bambino e quindi ho trasformato la passione in lavoro sostanzialmente. Perfetto, proprio per la tua esperienza in materia, il naufragio che c'è stato a Palermo, per non parlare delle persone annelegate a Milazzo, in questi giorni ci hanno fatto vedere il mare a volte come un nemico. I natanti, chi esce in barca, anche i turisti che vanno nella spiaggia di Milazzo, come possono tutelarsi dai pericoli del mare? Sì, sostanzialmente il mare può essere appunto un amico ma anche un nemico nel senso che può cambiare rapido, le sue condizioni possono cambiare in modo molto rapido. Sostanzialmente per quanto riguarda il naufragio che è avvenuto lo scorso alle 4 della notte, del mattino dello scorso lunedì, eravamo in presenza di una perturbazione, di una goccia fredda, cioè di una bassa pressione strutturata sostanzialmente in quota, quindi con aria più fredda che affluiva sul Martirreno, Martirreno che è molto caldo, queste settimane sta raggiungendo picchi di temperatura superficiale fino ai 30-31 gradi centigradi, quindi il gradiente termico verticale ha consentito la formazione di temporali molto intensi che, come ben sappiamo, possono portare al loro interno, oltre che fulmini, pioggia forte o anche grandinate, anche del vento forte. Non è chiaro ancora se si sia trattato, forse non lo sarà mai, se si sia trattato di una tromba d'aria o di un downburst, un cosiddetto downburst, cioè raffiche di vento lineari, ma questo poco importa perché sostanzialmente i fenomeni sono su diverse scale spaziali, ma in ogni caso entrambi molto pericolosi per la navigazione e anche per le persone che sono sulle spiagge. Quindi sostanzialmente per chi è ancora al mare, in spiaggia oppure in barca, bisogna, il consiglio che posso dare è sicuramente quello di affidarsi agli esperti, quindi di seguire innanzitutto gli avvisi che emano alla protezione civile ogni giorno, per esempio la scorsa domenica e lo scorso lunedì erano in vigore delle alerte gialle per rovesce temporali, quindi con la possibilità anche di fenomeni vorticosi o anche di vento forte, che può far cambiare appunto molto repentinamente le condizioni del mare. Quindi seguire innanzitutto i bollettini della protezione civile e poi anche degli altri esperti che sostanzialmente mettono in guardia del possibile arrivo di temporali forti. Come detto prima, il lunedì scorso, tra domenica e lunedì, c'erano le previsioni di temporali forti, quindi quello che è avvenuto diciamo si poteva anche evitare. Bisogna comunque essere sempre in guardia, non solo appunto consultando le previsioni, ma anche scrutando, guardando il cielo, perché banalmente quando c'è un temporale che si sta per avvicinare, la cosa più prudente da fare è quella di allontanarsi dalle spiagge, se si è in spiaggia appunto, oppure quella di andare in porto se si sta navigando nei pressi con un'imbarcazione piccola, perché appunto la situazione può cambiare molto rapidamente. Banalmente un fenomeno molto pericoloso, oltre al vento e alle mareggiate, possono essere anche i fulmini. Abbiamo sentito la notizia nelle scorse settimane di persone che sono anche rimaste fulminate in spiaggia a Rimini per un fulmine appunto e durante un temporale. Bene, quando vediamo che sostanzialmente si sta avvicinando un temporale, inutile perdere tempo ancora in spiaggia, ma è meglio andarsene quanto prima possibile. Poi un altro consiglio che posso dare è quello di andare a seguire le app che ormai sono molto diffuse, soprattutto non per quanto riguarda la previsione, ma per quanto riguarda la consultazione del monitoraggio, quindi della consultazione del radar e del satellite. Ormai sono diffusissime le app che hanno al loro interno il radar meteorologico, con questo noi possiamo capire come si stanno muovendo le precipitazioni, le piogge temporali, quanto sono forti e quanto rapidamente possono avvicinarsi. Quindi la tecnologia ci può aiutare anche a salvarci la vita. Hai qualche consiglio riguardo a queste app per i nostri ascoltatori? Sì, diciamo che quella più diffusa, secondo me anche quella più intuitiva e fatta meglio è l'app Windy. Sarebbe la traduzione in italiano di ventoso sostanzialmente. In questa oltre ai modelli numerici che la gente, ovviamente, la gente comune può far fatica a leggere, è presente anche all'interno l'animazione delle immagini satellitari e della moviola radar. Il radar non è altro che uno strumento che consente, tramite l'emissione di onde elettromagnetiche, queste rimbalzano sulle gocce di pioggia di un temporale, di un rovescio e poi ritornano al radar stesso e quindi tramite equazioni fisiche riescono a stabilire quanto è lontano la pioggia e quanto è forte. Quindi con la moviola, con l'animazione che è presente nell'app, si può individuare anche tramite, in sovraimpressione sono riportati anche i fulmini, si può vedere quanto è forte questo temporale se si sta avvicinando a noi, se si sta allontanando, quindi se possiamo metterci in salvo prima dell'arrivo di questi temporali che sono probabilmente intensi, più intensi rispetto al solito appunto per la grande mole di energia che è contenuta in un mare caldissimo, come detto prima, con temperature superficiali anche superiori ai 30 gradi.